Faccio soffriggere il mio scalogno con l'olio nella bellissima padella 28 della Vulcanica, due minuti, fiamma alta. Aggiungo adesso olive e capperi e metterò il salmone. Ho messo i miei filetti di salmone sul gelato, vado a coprire sempre sul fornello medio, fiamma bassa per 10 minuti. Dopo 10 minuti di cottura ho girato il salmone, avevo aggiunto anche un pochino di vino e adesso metto la mia rucola. Ecco qua, un pochino di sale e vado a coprire sempre fiamma bassa per altri 10 minuti.